Musica Abbiamo ascoltato Corey Wong insieme a Dirty Loops quest'oggi Corey Wong l'abbiamo trovato solitario con Today I'm Gonna Get Myself A Real Job un brano così leggiadro direi Tom Tu credi che c'è Tom? No, io pensavo ultimamente non eri sparito Tu non chiedi perché è sparito dove è finito cosa sta facendo, cosa non sta facendo No sinceramente non mi ero posto questo problema Non ti eri posto il problema Vuoi che ti dica? Perché sono sparito? Perché sei sparito? Sono andato a lavorare all'estero Ah, e come mai? E come mai? Io dovevo guadagnare 5 dollari qua 5 dollari di là andare a lavorare Ah, tu non ho sentito parlare dei laboratori là in Ucraina Ah, sei andato a lavorare nei laboratori? Ho fatto consulenza e anche produzione Quindi esistono? Ci dai conferma? Eh, caro, ci ho lavorato tutte queste settimane E non è che ti è scappato qualche virus, qualcosa? No, mi è scappata un'altra cosa che adesso ti racconto Perché tu ti ricordi ancora quando ho cominciato, no? Tutto questo casino Che arrivavano servizi da Kiev che mostrava cittadini che faceva Molotov perché arrivava a carri armati russi, no? Sì E però c'è un problema che con tutto questo casino il prezzo della benzina è aumentato a parte che le Molotov non vanno più di moda E allora ha chiamato Vladi cioè me e ha detto tu vieni qua e praticamente sono stato alcune settimane a dieta mangiato solo fagioli alla messicana e cavoletti di Bruxelles e praticamente anziché imbottigliare benzina io imbottigliavo le mie scoregge che facevo a manetta e diventavano armi chimiche proprio ditte tu sai che in questi laboratori si parlava che si faceva adesso ho svelato grande mistero io ho lavorato lì al programma di armi chimiche di quelli là anzi ho prodotto io questa bottiglietta che ti dico tu lanci una Molotov sì vabbè prendi un attimo fuoco poi l'estintore sparisce tutto prova te quando lancia bottiglietta tra l'altro sai che in mio onore hanno anche dato un nome a queste bottigliette le Vladimov Vladimov tu ti dici una Vladimov sta tranquillo che nel raggio di 50 metri sono dolori comunque adesso poi però come sai hanno catturato tutti questi laboratori e allora ho dovuto tornare a casa percanto 5 dolla qua 5 dolla là ma adesso devo trovare ma non hai avuto paura sotto le bombe no quali bombe le tue le facevo io eh appunto comunque sai anche per questo ho consigliato a Ton Busco di mettere questa canzone che avete sentito ma tu sei ancora là perché sento questo è il classico allarme antiaereo sì esatto questo è il classico allarme antiaereo se potessi spegnerlo accidenti no comunque avete sentito questa bella canzone no domani mi trovo un lavoro vero praticamente tradotto tradotto questo è il titolo e toccherà anche a me comunque adesso chiama Ton Busco perché credo di aver già disturbato abbastanza ascoltatoni va a chiamare vai 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 dindon dindon ecco qua ecco oltre alle campane ci sono anche i carionti eh beh altronde non poteva che essere così vabbè lasciamo stare va niente eccoci qua eccoci qua allora attesa tua carrellata grande ritorno pronto? sì eccoci qua con la tua attesa carrellata è tornato il tuo amico Vladimir sulla cresta dell'onda verrebbe da dire più che dell'onda comunque senti un po' che mi dici delle elezioni in Francia eh che ti dico che non so anche in Slovenia io ci metterei perché guarda hanno vinto entrambi diciamo i candidati pro Europa al di là che io abbiamo già parlato non è che ci avevi messo la mano sul fuoco ma lo sapevamo benissimo che sarebbe finita così però è curioso fino a un certo punto che tutti quelli che vincono sono a favore curioso fino a un certo punto come dici tu proprio fino a un certo punto ma comunque direi che è andato tutto secondo un certo copione e ma questo cioè era prevedibile già da parecchio tempo fin ormai da possiamo dire ormai possiamo parlare anche di anni basta vedere appunto qual è stata la posizione del tutto inesistente di questa Marine Le Pen durante la pandemenza che abbiamo subito noi così come altri paesi durante quel periodo era praticamente un fantasma uno spettro un ectoplasma anzi un ectoplasma mi sembra mi sembra perfettamente così come peraltro i suoi sodali qua in Italia su cui ci sarebbe molto da dire vabbè ma non ho voglia di rovinarmi la giornata parlando della gentaglia che abbiamo qui comunque insomma tanto per dire naturalmente voci non confermate impossibili da confermare comunque qualcuno dice che Le Pen si è beccata 300 milioni pare che si abbia insomma si è beccata un 300 milioni di di dollari per come mandorletta per diciamo così fare in modo di non protestare troppo insomma per recitare la parte che ha giocato in questa sceneggiata anzi scemeggiata direi però questo è impossibile da dimostrare ma il tempo dirà alla fine prima o poi tutto salta fuori e sta saltando fuori no anche perché parlando lo spettacolo strano di questa scemeggiata in Francia allora ha vinto come era prevedibile appunto come era scontato quasi Macron ma in tutta la Francia come senz'altro ho visto se non in tutta la Francia comunque in molti posti ci sono state manifestazioni proteste di tutti i tipi contro contro Macron è un po' strano insomma all'indomani mi sono un po' stonata sta cosa o forse c'è una ragione comunque sia in altre occasioni anche la volta scorsa avevamo parlato della strana positività di Draghi a un certo punto il risultato positivo asintomatico e in altre occasioni abbiamo diciamo così evidenziato il fatto che in questi ultimi mesi soprattutto in queste ultime settimane molti personaggi in vista che ricoprono cariche importanti sono risultati positivi a sto cavolo di Covid e secondo una certa narrativa che non è possibile non è possibile in alcun modo dimostrare quando appunto si segnala la positività al Covid di determinati personaggi questo è un chiaro indice che sono diciamo così questi personaggi sono oggetto di speciali attenzioni a dir poco per non dire altro è un segnale in codice per chi deve capire o deve decifrare è un segnale dal nostro punto di vista positivo perché significa che questi personaggi sono ripeto a dir poco attenzionati a dir molto qualcosa di più ecco comunque insomma c'è un elenco aggiornato anzi neanche tanto c'è abbastanza aggiornato dei personaggi in vista che in quest'ultima settimana in questi ultimi giorni sono risultati positivi al Covid faccio un breve elenco allora chi è allora il generale James McConville che è il capo dell'esercito US Army quindi dell'esercito statunitense però aspetta un po' credo che non so se sia il capo o il portavoce è poco chiaro US Army Chief Test Positive for Covid-19 Spokesperson vabbè comunque o è lui o il suo portavoce ma no è il generale James McConville adesso verificherò se è lui il comandante in capo dell'esercito ma credo che sia lui il risultato positivo poi chi c'è vediamo alle Nazioni Unite il capo degli aiuti umanitari il capo Martin Griffiths sotto segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni humanitarian affairs quindi questioni umanitarie poco già giusto poco prima di recarsi ai colloqui previsti sull'Ucraina in Turchia è risultato positivo al Covid-19 quindi un altro score come si dice in inglese poi il sindaco di Toronto John Tory John Tory risultato positivo al Covid-19 poi di Mario Draghi abbiamo già detto la scorsa settimana e non ci ripeteremo poi chi c'è c'è il governatore Mike DeWine governatore eh sì il governatore e anche sua moglie First Lady Frank DeWine sì governatore e moglie non so di che stato degli Stati Uniti sia governatore dell'Ohio il governatore dell'Ohio poi che abbiamo Rick Rich Fitzgerald sindaco di Pittsburgh ah no aspetta no Rich Fitzgerald e allora il sindaco di Pittsburgh che sarebbe Ed Ganey e poi Allegan e il diciamo il executive quindi un funzionario della contea di Allegheny suppongo che sia anche questa in Pennsylvania Rich Fitzgerald scusate l'impipo l'impaccio ma a volte faccio casino anch'io poi c'è vediamo ehm Releig il sindaco di Releig Mary Ann Baldwin Releig sì quindi North Carolina anche lei è risultata stranamente positiva al Covid e poi eh 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 aspetta c'ho un video bellissimo che potrebbe essere praticamente potrebbe andare a commento non so l'hai viste sicuramente ormai sono virali i video di Zelensky strafatto che ne abbiamo parlato anche l'altra volta eh video di Zelensky strafatto che parla strafatto molto e tutto in alcuni di questi video si vede proprio le strisce di coca sulla sua scrivania no? e qui c'è un commento di beh l'ho detto innumerevoli volte e lo ripeto mi ripeterò anche oggi io adoro Lavrov il ministro degli esteri russo proprio mi piace è uno degli ultimi diplomatici nel vero senso della parola che esistono su questo desolato pianeta comunque io ho sempre ho sempre ammirato Lavrov e a un certo punto alla domanda di cioè di una giornalista che gli chiede ah ma Zelensky ha detto che ha detto che la Russia potrebbe usare armi nucleari tattiche in Ucraina in Ucraina no? lui ha detto ma sintetizzo ha detto beh Zelensky dice un sacco di cose dipende da cosa ha bevuto o da che cosa ha fumato non si so mi ha fatto morire quando ho visto questo lapidale intervento di Lavrov poi avrai senz'altro sentito una notizia che è emersa alcuni giorni fa che in alcuni diciamo così in alcune località liberate dai battaglioni Azov in Ucraina hanno rinvenuto consistenti quantitativi del captagon la famosa droga che era tra l'altro la droga dell'Isis no? in Siria sappiamo che se n'è parlato all'epoca l'Isis era abbondantemente rifornita di questa specie di anfetamina anzi non è una semplice anfetamina è un composto di anfetamina eteofillina che oltre tra l'altro a provocare una forte dipendenza praticamente disattiva la sensazione di dolore fisico e questo spiega la strana euforia e combattività di certi personaggi che combattevano in Siria e che adesso combattono in in Ucraina tutti caratterizzati proprio oltretutto da un estremo fanatismo Isis neonazisti Azov eccetera eccetera comunque insomma ne hanno ne hanno reperiti i consistenti quantitativi anche in Ucraina e francamente la notizia non non stupisce poi mi ha fatto ridere adesso sto sto leggendo praticamente una cosa qui vado su un meme che ho visto qualche tempo fa qualche giorno fa a commento avrei sentito che Zelensky ha detto che praticamente ha chiesto pubblicamente 550 miliardi di dollari di danni e vuole 7 miliardi di dollari al mese per andare avanti giustamente c'era un meme che mi ha fatto cappottare dalle risate che diceva ma quanto cazzo costa la coca in Ucraina vabbè comunque a parte queste diciamo queste queste battute scusate il francesismo ma ogni tanto ci sta niente c'è una faccenda che meriterà di essere indagata ne abbiamo già accennato che in Pakistan praticamente c'è stato un tentativo è tuttora in corso un tentativo di colpo di stato e secondo alcuni commentatori sarebbe anche se non soprattutto legato all'Afghanistan cioè praticamente possiamo definire una nuova guerra dell'oppio cioè praticamente il casino in Pakistan sarebbe anzi è scoppiato in concomitanza con un annuncio coordinato diciamo coordinato un annuncio dei talebani in Afghanistan coordinato con Cina e Pakistan cioè praticamente hanno annunciato quello che abbiamo già visto l'abbiamo già visto poco prima dell'invasione dell'Afghanistan degli anni recenti di un po' di anni fa cioè praticamente l'Afghanistan e i talebani hanno annunciato congiuntamente col Pakistan e anche con la Cina che avrebbero interrotto la produzione dell'oppio non dimentichiamo che secondo una fonte dell'ONU l'Afghanistan produce o sarebbe meglio dire forse produceva o forse tuttora produce comunque 9.000 tonnellate di oppio all'anno ora se consideriamo che il mercato degli oppiacei diciamo così secondo alcune stime vale circa 270 miliardi di dollari l'anno potete capire che allora potrebbero esserci anche queste ragioni dietro il tentativo di rovesciare il presidente pakistano Imran Khan e questo potrebbe anche spiegare adesso qua viene citato il vice segretario di stato americano Donald Lu che praticamente avrebbe diciamo avrebbe espresso all'establishment pakistano una frase che suona come Imran Khan deve perdere con il voto di sfiducia altrimenti il pakistan dovrà affrontare delle conseguenze e poi c'è stata anche la visita di la strana visita di Bill Gates che cavolo si è andato a fare Bill Gates in pakistan proprio molto di recente va bene tutte domande che forse troveranno una risposta tra l'altro qua viene citato anche la Cina che avrebbe bloccato diciamo così dei prestiti che assomano leggo qui a 4 miliardi di dollari non ha rinnovato questo prestito e la conseguenza è stata che il pakistan adesso si trova in grosse difficoltà perché non riesce nemmeno a ha dovuto tagliare di un quinto la propria produzione di elettricità perché non riesce a pagare la bolletta del gas praticamente vabbè un copione già visto comunque stiamo a vedere l'ho già detto in precedenza e lo ribadisco qua il pakistan potrebbe essere uno scenario diciamo un teatro chiamiamolo così piuttosto interessante da monitorare in questi giorni e nelle prossime settimane vediamo un po' cos'altro c'è qui ah sì un'altra cosetta interessante è che potrebbe essere collegata a quello che abbiamo visto che stiamo vedendo succedere a Shanghai ovvero sia questo strano lockdown che dura ormai da un mese anzi da più di un mese se la memoria mi sostiene anche se mi sostiene poco negli ultimi tempi comunque diciamo che potrebbe essere legato al fatto che questo è citato anche dall'Industan Times praticamente Xi Jinping il leader cinese praticamente si sta predisponendo a il titolo recita Xi Jinping set to secure unprecedented third term as China's leader cioè praticamente Xi Jinping si sta predisponendo ad assicurarsi un unprecedented diciamo un terzo termine come leader cinese che non ha precedenti suppongo nella storia cinese io leggo il titolo e così lo interpreto e qui spiega perché praticamente ha a che fare con cioè praticamente adesso è diventato un delegato del partito comunista cinese nella regione del Guangxi e qui spiega tutta una storia che a noi interessa poco ma la notizia interessante è questa appunto che è collegata appunto allo scenario di Xi Jinping che si sta diciamo candidando o sta predisponendo si sta predisponendo a un terzo mandato come come presidente della Cina pare che questo terzo mandato sia stato ferocemente viene ferocemente contestato contrastato dall'ex presidente Jiang Zemin la cui base di appoggio è Shanghai cioè quindi ognuno di questi personaggi ha evidentemente un suo bacino diciamo così d'elezione che è un bacino un elettorato non so se sia giusto chiamarlo elettorato comunque ci sono delle zone della Cina dove questi personaggi hanno sono ben posizionati mettiamola così insomma secondo questo interessante commento è cioè il fatto che Jiang Zemin abbia la sua base d'appoggio a Shanghai spiegherebbe o in parte spiegherebbe perché sta succedendo quello che sta succedendo a Shanghai cioè sembrerebbe una parte una sorta di ripicca da parte dei sostenitori di Xi nei confronti di Jiang Zemin il fatto qui si parla in questo articolo si parla addirittura di una epurazione in corso e il fatto che questo è un fatto viene confermato da un post di Radio Free Asia la polizia cinese ha ordinato ai residenti di Shanghai di consegnare i passaporti sino a dopo until after the pandemic cioè sino a dopo l'emergenza pandemica anche questo è un segnale piuttosto interessante e comunque rimane il fatto che quello che sta succedendo a Shanghai avrà sicuramente delle conseguenze anche sul mercato statunitense perché anche questo ne abbiamo già accennato cioè il traffico i trasporti da Shanghai sono praticamente bloccati almeno una settimana una settimana fa c'erano qualcosa come 500 navi ancorate al largo di Shanghai che non potevano né caricare né scaricare cioè 500 navi da carico non sono mica pugnette comunque è interessante questo scenario del diciamo così interno americano perché perché stanno succedendo delle cose negli Stati Uniti allora intanto partiamo da questo è stato pubblicato il 24 aprile da cosa è Investment Watch comunque questo praticamente c'è un commento di ah beh un giornalista che ho già citato in precedenza perché è uno dei miei preferiti Tyler Durden che praticamente cita chi è vediamo la Rockefeller Foundation che come sappiamo è è un ente piuttosto di quelli che a noi sono tanto tanto simpatici tanto simpatici no comunque dunque per voce del presidente della Rockefeller Foundation Rajiv Sa che ha parlato con David Westin della Bloomberg Television non sappiamo nemmeno che Bloomberg esistesse questa Bloomberg comunque told Bloomberg Television's David Westin quindi ha parlato con questo David Westin della Bloomberg Television ha citato che entro sei mesi cerco di rissumere qui entro sei mesi ci si può aspettare nei prossimi sei mesi una massive immediate food crisis cioè una massiccia e immediata crisi alimentare cioè proprio una carestia qua si parla di carestia appunto Shah provides what could be a timeline for the next global food crisis that could begin in the next six months cioè Shah fornisce una timeline una scadenza per questa crisi alimentare globale addirittura per i prossimi sei mesi naturalmente e ne avevamo già parlato in precedenza anche di questo avevamo un argomento che avevamo già affrontato e uno dei motivi sarebbe la crisi cioè la difficoltà diciamo l'interruzione della fornitura di globale di fertilizzanti causata dall'invasione russa in Ucraina ne avevamo appunto già parlato ma perché cito va bene insomma ci sono questi psicopatici che anche anche Schwab e altri diciamo così globalisti hanno diciamo così hanno espresso posizioni allineate con quella che ho citato qui da parte della Rockefeller Foundation ma perché ne sto parlando perché degli Stati Uniti stanno accadendo da ormai da sin troppo tempo delle cose molto strane cioè addirittura c'è un vario articolo che dicono le stesse cose uno è piuttosto generalista perché vabbè è il Free West Media ma poi ce n'è un altro un altro è un blog interessante che comunque punta il dito su qualcosa che sta succedendo negli Stati Uniti e che di qui ben poco ho sentito parlare beh nei media generalisti proprio non viene assolutamente citato ma secondo me si collega perfettamente a quello che ho citato un attimo fa leggo il titolo Why are so many mysterious fires happening at food processing facilities all across the United States che tradotto vuol dire perché tanti così tanti misteriosi incendi stanno accadendo in tutti gli Stati Uniti in tutti gli Stati Uniti negli impianti di produzione alimentare cioè anticamente dall'inizio dell'anno vediamo se trovo il punto dall'inizio dell'anno sì dall'inizio dell'anno diciamo la scorsa settimana dall'inizio dell'anno fino alla scorsa settimana ci sono stati 16 importanti incendi in impianti di produzione alimentare ma nel frattempo ce ne sono stati altri e tra l'altro alcuni veramente pazzeschi addirittura un bimotore che si è schiantato un bimotore Cessna che si è schiantato contro un impianto di produzione di non mi ricordo cosa twin engine Cessna crushed sì un impianto di diciamo di cereal plant quindi di cereali praticamente un impianto non di produzione di trattamento evidentemente di produzione alimentare a base di cereali comunque insomma ci sono un'infinità di incendi che non si capisce nemmeno anche se l'articolo più generalista il free west media beh generalista fino a un certo punto ma comunque molto accreditato visto i giornalisti che ci scrivono diciamo the background is unclear but terror is being ruled out vuol dire è poco non si capisce quali siano le ragioni di questi incendi anche se il terrorismo il fattore terroristico è stato escluso comunque anche qui sempre più impianti di produzione alimentare in tutti gli Stati Uniti stanno prendendo fuoco e non si capisce bene leggo alcuni paragrafi incendi incendi ed esplosioni possibili connessioni food crisis is getting worse la crisi alimentare sta peggiorando cioè si collega un po' al discorso che facevamo prima ah anche qui c'è un tweet di un certo dottor Benjamin Braddock l'FBI avverte cioè mette in guardia da cyber attack attacchi cibernetici che hanno preso di mira proprio gli impianti questi impianti di produzione alimentare o di trattamento quindi è veramente strano strano fino a un certo punto cioè strano secondo un punto di vista generalista ma secondo un punto di vista che forse trova più di scontro in diciamo così in palcoscenici come questo forse non è affatto strano quello che sta succedendo che è molto inquietante torniamo all'articolo precedente vediamo se c'è altro che possa aggiungere sì ci sono alcuni tweet con degli elenchi il titolo questo non è assolutamente non è assolutamente una coincidenza e appunto c'è un tweet con un elenco di date di posti eccetera eccetera di questi incendi appunto esplosioni incendi e più diciamo così l'incidente aereo a cui facevo riferimento prima quindi teniamo d'occhio anche questa questione perché secondo me potrebbe valere la pena approfondirla quantomeno cosa avevo selezionato tra l'altro scusate se mi impappino ogni tanto ah ecco questo vale la pena spenderci qualche minuto vale la pena spenderci qualche minuto il titolo adesso traduco direttamente senza leggervi la frase in inglese un ex analista della Nato dipinge un quadro completamente diverso della guerra in Ucraina a parte che le cose che adesso sentirete in parte le conosciamo già però traduco perché comunque vale la pena allora sotto il titolo c'è scritto il colonnello in pensione the retired quindi in pensione il colonnello in pensione svizzero Jacques Baud ha scritto un lungo articolo in cui rappresenta un quadro completamente differente della guerra in Ucraina di quello invece rappresentato dai medi occidentali l'ex analista della Nato però non capisco come un diciamo così un colonnello della Svizzera possa essere inquadrato nella Nato vabbè adesso lo capiremo comunque il former Nato analista l'ex analista della Nato ha aiutato l'Ucraina a costruire per anni ha aiutato l'Ucraina a costruire a mettere in piedi il proprio esercito allora Baud Baud notava che i cosiddetti separatisti sostenuti dalla Russia nel Donbass non furono negli scorsi otto anni questo è un dettaglio interessante è un dettaglio interessante perché si è sempre sostenuto che questi separatisti erano diciamo così sostenuti con forniture erano sostenuti attivamente dalla Russia dalla federazione russa mentre lui praticamente dice che non è così non furono mai in alcun modo appoggiati o supportati dalla Russia negli ultimi otto anni dopo il colpo di stato dopo il Maidan l'Euromaidan del 2014 le popolazioni la parte di popolazione russofoba eh sì russofoba scusate russofona diciamo così del Donbass comunque in generale nell'Ucraina le popolazioni che parlavano russo comunque filorusse diciamo così sono state attaccate dai soldati ucraini in città come Odessa Mariupol Luansk e Donetsk eh sono stati sono stati perpetrati dei veri e propri massacri e da allora praticamente appunto come sappiamo dal 2014 eh in tutta l'Ucraina praticamente c'è stata una vera e propria quella che si può definire una guerra civile eh all'epoca ecco qua ha chiarito il mistero Bode lavorava come eh nel 2014 era un analista eh militare per la Nato eh quando il suo team la sua squadra scoprì che le le armi dei cosiddetti ribelli dei separatisti non venivano non erano fornite loro dalla Russia ma dai eh come si dice d'effetto dai disertori di lingua russa che militavano nelle forze armate Ucraina e questo è un dettaglio secondo me molto interessante se dobbiamo dare credibilità a quello che afferma questo Bode e come la domanda poi c'è un il titoletto di un paragrafo che dice come fa come lo ha come ha saputo tutto questo c'è stato allora continuo a tradurre perché vale veramente la pena c'è stato un massiccio esodo dopo il quale dopo il quale Bode dovette aiutare a ricostruire l'immagine dell'esercito ucraino cioè praticamente secondo le parole secondo la descrizione di questo Bode dal 2004 a partire dal 2014 della diciamo di questa sorta di guerra civile di questo di questo casino che è successo in Ucraina una buona parte dell'esercito ucraino che era di lingua russa erano russofili e russofoni e praticamente si sono dileguati si sono hanno disertato dall'esercito fornendo consistenti o comunque significativi quantitativi di armi ai separatisti del Donbass ecco questo è il quadro che finora non era mai emerso perlomeno io non ne sapevo nulla quindi per quello lo trovo interessante comunque il suo lavoro di ricostruzione del esercito ucraino è stato continuo a tradurre è risultato essere un processo lungo e arduo e arduo durante questo lavoro sono emerse hanno cominciato ad emergere le milizie estremiste paramilitari insomma i vari Azov e compagnia cantante nel 2020 il 40% dell'esercito ucraino era costituito da queste milizie sempre secondo Bode descrive i membri come crudeli fanatici e afferma che erano finanziati addestrati ed armati da Stati Uniti Gran Bretagna Canada e Francia Bode inoltre ha sottolineato che l'anno scorso il presidente Zelensky aveva annunciato di avere l'intenzione e questo lo ricordo perché avevo visto avevo letto proprio un diciamo un ordine proprio ho letto i documenti relativi a questo quindi non è una diciamo una teoria del complotto come si chiama o una fake news è vero questo e poi lui non fa altro che confermare quello che era già emerso che il presidente Zelensky l'anno scorso aveva annunciato di avere l'intenzione di riprendere la Crimea e aveva mandato a tale scopo aveva mandato verso sud le sue in gran parte suppongo delle east troops comunque le sue le sue truppe e appunto in febbraio l'esercito l'esercito ucraino aveva iniziato a bombardare il Donbass on a large scale su larga scala e anche questo è un fatto risaputo anche se convenientemente ignorato omesso o dimenticato o dimenticato da diciamo così dalla narrativa occidentale l'ex colonnello ha aggiunto che il presidente Biden aveva annunciato il 17 febbraio quindi il 17 febbraio prendete nota della data che la Russia avrebbe attaccato l'Ucraina entro pochi giorni come faceva a saperlo? dato che il 16 febbraio la popolazione civile del Donbass era stata perché il 16 febbraio la popolazione civile del Donbass era stata massicciamente bombardata dall'esercito ucraino l'Unione Europea i media la Nato e i governi occidentali non di meno hanno completamente ignorato o comunque negato cioè hanno negato o comunque hanno ignorato il fatto che tutto questo stesse accadendo vado alla conclusione perché l'articolo non è lunghissimo ma non è che possiamo vado soltanto in quest'ultimo paragraffetto che si intitola tre motivi tre three reasons sembra che l'Unione Europea e i paesi occidentali abbiano non abbiano deliberatamente detto nulla circa il massacro in Donbass perché sapevano che avrebbe provocato la risposta della Russia come abbiamo visto questo è esattamente quello che è successo ha anche sottolineato sempre questo Bode che questo è un altro dettaglio interessante che in gennaio sabotatori con equipaggiamento occidentale sono stati pizzicati sono stati catturati in Donbass e parlavano polacco c'erano dei polacchi praticamente volevano provocare un incidente con sostanze chimiche a Gorlovka Bode ha detto che Joe Biden sapeva ah ecco questo è interessante Bode ha detto che Joe Biden sapeva che i bombardamenti massicci e gli atti di sabotaggio avrebbero condotto la Russia a invadere l'Ucraina secondo lui ci sono tre ragioni per questa guerra l'espansione della Nato il rifiuto da parte dell'Occidente di implementare gli accordi di Minsk di cui si è tanto parlato peraltro gli attacchi su larga scala della popolazione civile nel Donbass negli ultimi otto anni c'è anche questo che devo assolutamente aggiungere perché è interessantissimo che afferma inoltre grossi quantitativi di armi che al momento vengono spediti vengono trasferiti in Ucraina dall'Occidente sappiamo bene molte un grande quantità adesso lo riassumo in due parole praticamente gran parte di queste armi in realtà vengono praticamente ritornano in Occidente per altre cioè praticamente vengono smerciate al mercato nero l'abbiamo già detto la scorsa volta e quindi nel mercato nero praticamente ci sono molte qua cita gangs quindi bande ma bande di che tipo in Svezia Olanda e Germania sono già i destinatari o comunque sono quelli che sul mercato nero si stanno approvvigionando di queste armi che praticamente dall'Ucraina tornano per altre vie ai loro posti di partenza e praticamente adesso la conclusione è che praticamente si stanno creando le condizioni per cui cito testualmente le condizioni per la formazione in Europa di una nuova Al-Qaeda cioè praticamente cosa dice qui considerando che per esempio la Francia di cui parlavamo prima sappiamo bene che dal punto di vista etico è una polveriera pronta ad esplodere considerando che una gran parte di questi stiamo parlando di missi insomma degli stinger antiaerei o dei 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 javelin anticarne insomma armi mica non sono mitragliette non sono semplici kalashnikov o pistole o pistole qua stiamo parlando di armi decisamente molto letali e stanno tornando in molti paesi europei tra cui la Francia che viene definita e lo sappiamo bene come una polveriera etnica dal punto di vista etico pronta ad esplodere e praticamente tutto questo potrebbe tutto questo scenario che stiamo rappresentando qui potrebbe portare veramente a a a vedere in Europa delle cose che dire che non ci saremmo mai aspettati è troppo perché in realtà per chi diciamo così cerca di informarsi e di unire i puntini diciamo così un scenario di di sommosse causate causate insomma qua si connettono molte cose no l'immigrazione selvaggia anche in Italia lo conosciamo bene o comunque insomma tanti collegando tanti puntini messi insieme quello che sto che sto riportando qui dovrebbe in qualche modo in qualche modo diciamolo pure preoccuparci va in conclusione poi vabbè c'è la questione dei depositi di carburante che sono saltati in Russia proprio mentre Blinken e Austin avevano che poi non si capisce come sono arrivati a Kiev vabbè comunque diciamo che ci siano arrivati Blinken che è cos'è Blinken è il segretario di Stato cos'è no sì l'attuale segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e il segretario e il ministro della difesa Lloyd Austin si incontravano con Zelensky a Kiev mentre succedeva questo ci sono stati dei depositi di carburante in territorio russo che sono saltati per aria francamente vabbè al di là della notizia in sé che è preoccupante io qualche domanda me la faccio nel senso che l'articolo che ho davanti cita semplicemente e documenta queste esplosioni in due differenti impianti tra l'altro dal confine ucraino distano ben 150 km non sono proprio attaccati ora la versione del mail online parla di un attacco missilistico ucraino cioè praticamente questi impianti sarebbero stati colpiti da dei missili ucraini può darsi che sia così non lo escludo però non viene fornito alcun elemento a sostegno di questo scenario in questo articolo del 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 mail online diciamo così è una diciamo così un'attestata statunitense credo che sia perché rimango un po' perplesso da questo perché che questi depositi siano esplosi non c'è dubbio ci sono filmati immagini c'è di tutto ma il fatto che siano stati centrati da dei missili mi lascia un po' perplesso tutto può essere io non ho motivo di non ho un motivo per dubitarne ma non ho neanche sufficienti motivi per accettare questa versione secondo me potrebbero essere stati colpiti con altri sistemi perché considerando i sistemi di difesa aerea che la Russia teoricamente dovrebbe avere soprattutto in una zona sensibile come questa e i sistemi di preallarme mi sembra strano che gli ucraini abbiano la capacità di utilizzare missili e farli arrivare a bersaglio così facilmente ripeto può essere che sia così però quando nello stesso articolo poi vedo proprio un diciamo così una specie di tabella una tabella che documenta o documenterebbe userei il condizionale che documenterebbe le perdite dell'esercito delle forze armate russe contro l'Ucraina a tutt'oggi anche qui io non ho non posso sapere quanto ci sia di vero o quanto non ci sia di vero vi leggo delle cifre e poi ditemi voi se secondo voi queste cifre sono credibili secondo questa tabella diciamo le perdite russe in diciamo così infanteria 21.800 carri armati 873 accidenti 873 carri armati russi persi in poco più di 50 giorni quanti giorni sono passati oh tutto può essere io non dico che non sia così dico soltanto che mi piacerebbe mi piacerebbe anche sentire diciamo così le fonti russe cosa affermano per poter fare un po' la quadra però 873 ma addirittura il dato che mi lascia veramente veramente molto scettico è quello relativo ai caccia gli aerei da caccia e da trasporto 179 cioè io devo credere che la Russia abbia perso 179 tra caccia caccia bombardiere e aerei da trasporto ma poi artiglieria semovente semovente e non semovente insomma pezzi di artiglieria 408 wow ah elicotteri qualche elicottero l'avranno perso di sicuro però addirittura tra elicotteri d'attacco e da trasporto secondo questa tabella la Russia avrebbe perso 154 per non parlare poi dei veicoli da trasporto dai blindati diciamo così veicoli blindati addirittura 2238 veicoli blindati mamma mia e sistemi antiaerei 69 69 sistemi antiaerei distrutti russi da parte delle forze armate ucraine sistemi di lancio di razzi 147 ah camion e veicoli da trasporto truppe 1557 UAVS cioè quindi droni da ricognizione d'attacco russi 191 non avrebbero persi ah e addirittura 8 navi io sapevo della Moskva e invece sappiate che ne hanno già perse 8 a nostra insaputa per non parlare di 76 camion per il trasporto logistico eccetera eccetera vabbè insomma io leggendo io non ho modo di confutare queste cifre ma no ma francamente mi lasciano decisamente perplesso nel nel migliore dei casi se non fortemente scettico nel peggiore e propendo per il peggiore perché mi sembrano cifre veramente questa mi sembra veramente propaganda della peggior specie e soprattutto visto che questa tabella viene pubblicata nello stesso articolo in cui si afferma che questi impianti petrolifere sarebbero stati colpiti da missili così come adesso non abbiamo tempo di parlare ma torneremo a parlarne perché sto aspettando di mettere insieme già alcune se ne sono ma stiamo aspettando sto aspettando di mettere insieme ulteriori informazioni magari la prossima volta torneremo a parlare del misterioso affondamento della Moscava comunque direi che per quest'oggi è tutto se sei d'accordo caro Fabio yes stavo guardando dimmi dimmi non so se hai visto nella comunicazione per tornare a parlare un attimo di Sieri per chiudere sì nella comunicazione agli investitori scusa se lido di Biontech sostanzialmente scrive Biontech che potremmo non essere in grado di dimostrare un'efficacia una sicurezza sufficiente del nostro bip 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 e delle formulazioni specifiche per le varianti per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti nel Regno Unito nell'Unione Europea o in altri paesi in cui è stato autorizzato per l'uso d'emergenza è stata concessa l'approvazione all'immissione condizionata durante le nostre sperimentazioni e anche dopo aver ricevuto l'approvazione normativa possono verificarsi eventi avversi significativi che potrebbero ritardare o interrompere le sperimentazioni cliniche ritardare o impedire l'approvazione normativa o l'accettazione sul mercato di uno di qualsiasi dei nostri prodotti candidati si dice che il tempo è galantuomo però dopo che hanno fatto il disastro non è tanto galantuomo il tempo è galantuomo eh eh sì no il tempo è galantuomo per esempio non c'entra niente con questo qui si torna a Lucana però ce l'ho davanti visto che basta che legga il titolo eh niente era un commento a eh a quello che è successo in una puntata della trasmissione controcorrente su Rete4 in cui è per alcuni attimi è calato il gene studio quando il eh diciamo così praticamente c'era un un giornalista italiano Fausto Biloslava Biloslavo Biloslavo eh stava citando un missile che era precipitato a Odessa no? va bene eh praticamente il missile è caduto sul palazzo da Odessa a causa della contraerea Ucraina lo afferma ad Odessa controcorrente Biloslavo la conduttrice interviene chiedendo questo è quello che dicono i russi? no questo è quello che dico io e praticamente nel momento in cui gli ha risposto così è calato il gelo perché praticamente c'era la giornalista che cercava come al solito di tirare l'acqua a un lino ucraino tra l'altro dopo che mi è passato sopra la testa li ho visti mi sono passati sopra la testa non lo dicono i russi lo dico io beh vabbè niente il tempo è galantuomo dicevi no quindi anche in quella trasmissione hanno mostrato quella ricostruzione grafica che era il videogioco del sotterraneo dell'acciaieria era un gioco da tavolo è un gioco da tavolo ma è lo stesso videogiochi giochi da tavolo quando c'è il gioco si emozionano fra un po' ci mostreranno immagini di film di zombie non lo so possiamo aspettarti abbiamo animato la grafica del messaggero che poi giustamente come commentavamo con Massimo Mazzucco dell'ultima puntata lui diceva ma anche a logica non ti viene in mente cosa c'entra una serra con un'acciaieria cioè di notte gli operai coltivavano nella serra cioè non ti viene anche no non ti viene il dubbio che c'è qualcosa che non vanno no comment va bene grazie Tom ah tra l'altro ti volevo dire visto che dobbiamo sentire la tua benedizione finale esatto hai letto ah dimmi dimmi assomiglia al messaggio che Putin ha mandato a Macron in cui ha augurato prosperità vabbè lo ammetto sono filo russo no no nel senso mi ha colpato quando l'ho letto ho detto adesso appena senta Tom glielo dico hai fatto bene comunque vabbè io ce lo aggiungo lunga lunga vita e prosperità a tutti